Il Cloud Hosting Multidominio permette di assegnare e modificare in tempo reale le risorse di RAM sui singoli domini. Partendo dalla dashboard, selezioniamo il nome di dominio, clicchiamo sul nome di dominio ed accediamo alla scheda servizi. All'interno della scheda servizi c'è il tasto Distribuzione RAM. Accediamo quindi ad una pagina in cui è possibile vedere tutti i domini che si trovano nel pacchetto Cloud Hosting di cui fa parte il dominio di nostro interesse, la RAM assegnata al pacchetto e quella ancora allocabile. Possiamo quindi scegliere il dominio a cui modificare la RAM e impostare il nuovo valore. In fondo alla pagina, clicca su Applica e conferma per apportare le modifiche. Per maggiori informazioni sulla distribuzione di RAM, è possibile cliccare su Dettaglio fascia e vedere in che modo le altre risorse, CPU, IOPS Entry Process e numero di processi, variano al variare della RAM.